Il dissenso fra i sindacati e la ministra Azzolina, esploso sul tema dei concorsi, rischia di estendersi. Poche ore dopo la rottura del confronto su concorsi e reclutamento, i sindacati hanno nuovamente incontrato i massimi vertici del ministero per affrontare la questione del bonus premiale. Posizioni distanti anche su questo. I sindacati da una parte a sostenere che le risorse del bonus vanno gestite con la contrattazione d'istituto, l'amministrazione dall'altra che ritiene invece che la nuova norma introdotta con la legge di bilancio estenda al personale ATA la possibilità di usare il fondo senza però far venire meno il principio della premialità. Soluzione che ovviamente non è per nulla gradita ai sindacati, tanto che la Will Scuola parla persino di una interpretazione bislacca. Del tutto inevitabile la conclusione, i sindacati del comparto hanno ripreso la mobilitazione e anzi hanno già proclamato uno sciopero di tutto il personale precario per il prossimo 17 marzo. Nei prossimi giorni, nel corso di una conferenza stampa, verranno illustrate nel dettaglio le ragioni della decisione di riaprire le ostilità e di chiedere ad una parte consistente della categoria di scendere in piazza. I sindacati per intanto sottolineano che si tratta solamente del primo atto di una iniziativa che si svilupperà su un arco di tempo più lungo e su problematiche ben più vaste. Anche perché effettivamente di motivi per protestare il personale della scuola ne ha davvero tanti. Dal contratto ormai scaduto da tempo, agli stipendi europei sempre più lontani, fino alle classi numerose. E neppure le risposte pacate fornite dalla Ministra Azzolina in occasione del question time alla Camera del 5 febbraio sono state sufficienti a rasserenare gli animi. La Ministra ha garantito che i bandi dei diversi concorsi sono ormai in dirittura d'arrivo, essendo stati già anche trasmessi al CSP per il prescritto parere. Ma purtroppo proprio nelle stesse ore la parlamentare Francesca Flatti sulla propria pagina Facebook annunciava con toni entusiastici. Azzolina stoppa i sindacati. Immediate le reazioni di quasi tutte le organizzazioni che rispondono più o meno con le stesse parole. Se si rompono le relazioni con i rappresentanti dei lavoratori, non c'è proprio alcun motivo per essere soddisfatti. Insomma, la situazione è complicata e trovare una soluzione o una via d'uscita non è affatto semplice. Ovviamente su questo noi continueremo a tenervi informati. Seguiteci quindi su questo canale, seguiteci anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it e soprattutto continuate a scriverci, a mandarci i vostri commenti, le vostre osservazioni. Noi ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.